Una grande festa per alunni e docenti dopo lunghi mesi di didattica a distanza. Oggi ritorno in sicurezza tra i banchi di scuola per gli studenti fino alla prima media. La scuola deve riprendere, deve riprendere in sicurezza. Noi abbiamo attuato tutti i protocolli che erano già in vigore dal mese di gennaio, che c'erano stati già imposti giustamente dalle autorità sanitarie locali. Abbiamo ripreso fino alla prima media, speriamo che le autorità governative possano riaprire anche la presenza per le altre classi della scuola media e poter così riprendere, perché ne abbiamo voglia tutti, soprattutto i docenti che all'80% del nostro istituto si sono vaccinati e soprattutto gli alunni che hanno patito purtroppo e hanno sofferto in questo periodo di didattica a distanza totale. Finalmente, con grande orgoglio, riprendiamo. Riprendiamo perché ci sono tutte le misure e ci sono anche tutti i numeri per poter riprendere al meglio. Possiamo dunque rassicurare le famiglie e lanciare anche un messaggio di ottimismo e di speranza? Sicuramente sì, sicuramente sì perché i tempi ci daranno ragione, i numeri ci daranno ragione. Noi potremo così riprendere al meglio, almeno in queste ultime pochissime settimane che ci rimangono, per dare lo slancio finale e poter così sperare in meglio per il mese di settembre. Buona l'affluenza all'istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco, dove insegnanti, alunni e famiglie guardano con ottimismo ai mesi che verranno, con l'auspicio di lasciarsi alle spalle le difficoltà della didattica a distanza, non solo dal punto di vista formativo ed educativo, ma anche in termini di interazione e socializzazione per i ragazzi. Si sono presentati tutti quanti in orario, felicissimi appunto di rientrare a scuola, contentissimi e stiamo comunque onesti, l'affluenza è stata abbastanza importante perché la maggior parte infatti degli alunni sono rientrati. Ovviamente sappiamo che ci sono appunto dei turni e quindi ovviamente chi doveva appunto rispettare il turno è rimasto quindi a casa. Però siamo tutti molto contenti che comunque insomma i bambini sono rientrati e quindi con le loro insegnanti, felicissimi infatti finalmente di vedere i propri bambini, perché noi così infatti li chiamiamo alla primaria. E siamo contenti anche perché riusciamo praticamente a portare avanti anche questo progetto non soltanto didattico, ma anche di socializzazione che come appunto sappiamo soprattutto per i bambini di prima e seconda elementare è molto importante. Perché ovviamente la socializzazione è la base di tutto e quindi insomma anche attraverso questo si può portare avanti un processo appunto didattico. Quali sono state le difficoltà di questi mesi della didattica a distanza, soprattutto per bambini così piccoli? Allora, i problemi sono stati tanti. Prima di tutto perché abbiamo purtroppo dovuto anche tra virgolette delegare ovviamente i genitori nell'essere appunto presenti vicino a questi bambini, soprattutto davanti a un video, quindi possiamo dire uno strumento tecnologico con i bambini, con i quali appunto i bambini non hanno una grande attitudine, quindi non sono tanto avvezzi, soprattutto per quanto riguarda sempre i bambini di prima e seconda elementare. Però comunque insomma ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti e finalmente diciamo adesso possiamo cogliere i frutti di quello che abbiamo seminato. Quindi oggi finalmente si vede la luce fuori dal tunnel? Sì, una splendida luce come possiamo anche vedere oggi e speriamo comunque insomma di continuare così su questo versante fino alla fine dell'anno perché ce l'auguriamo veramente tutti in quanto i bambini soprattutto sono rimasti abbastanza, voglio utilizzare questo termine, forse traumatizzati da questo periodo appunto di pandemia e quindi finalmente abbiamo ritrovato questa luce, quindi siamo fortunatamente rinati con la primavera.